E' sera. Sono di fretta. Non è facile gestire tutto. Ma c'è una grande rivoluzione. Il mio Cuckeo Touch. Con Cuckeo Touch non devo più preoccuparmi. E' il nuovo modo di cucinare super veloce e gustoso che ha cambiato la mia vita. Mi basta toccare il suo grande schermo per accedere a tante ricette. Ci sono quelle di Moulinex e della Community. Sono infinite. Quando non ho molto tempo, devo solo scegliere tra le 100 ricette pronte in meno di 10 minuti. E quando non so cosa cucinare, il mio Cuckeo Touch mi propone la ricetta ideale in base agli ingredienti che ho in frigo. Iniziamo! Per risparmiare tempo, seguo la guida passo dopo passo con le foto e i video tutorial. Inserisco tutto e alla cottura ci pensa Cuckeo Touch. Così mi resta il tempo per le cose essenziali. Faccio partire la cottura e voilà! Non mi devo preoccupare di niente. In pochi minuti è pronto. E anche la pulizia è molto facile. E grazie all'app la mia vita è più semplice. Posso creare i miei ricettari, condividere consigli con la Community e molto altro ancora. Cuckeo Touch rivoluziona i miei pasti in poco tempo.